Salve a tutti e devo dirvi che nei momenti difficili Pontida ti dà una carica straordinaria con tutto quello che ci hanno fatto in Piemonte per noi oggi era importante venire qui a Pontida a ricaricarci, grazie a tutto il popolo di Pontida, grazie a tutto il popolo della Lega alla gente straordinaria della Lega e grazie a tutti i piemontesi che sono qui presenti con le loro bandiere abbiamo lavorato per essere qui in massa con i nostri gazebo, con le nostre bandiere con i tanti pullman, nella vita bisogna sempre avere la capacità e la forza se possibile di guardare avanti perché il futuro è nelle nostre mani, abbiamo la possibilità di costruirlo e di far nascere anche dai momenti negativi qualcosa di molto molto importante e noi oggi qui, noi piemontesi siamo qui per ritornare ancora più forti e abbiamo dalla nostra parte tante cose, abbiamo questi quattro anni di lavoro alla guida, al governo della regione Piemonte sono stati quattro anni importanti dove noi abbiamo salvato il Piemonte, io mi ricordo quando sono arrivato insieme alla squadra della Lega alla guida della regione e non c'erano i soldi per pagare gli stipendi, la regione era sommersa dai debiti c'era un sistema sanitario completamente fuori controllo e pensate che la sanità rappresenta circa l'82% del bilancio della regione abbiamo risanato i conti, oggi non ci sono più questi problemi e per la prima volta nella storia del Piemonte la sanità piemontese ha i conti in ordine, è in pareggio per la prima volta nella storia e insieme agli altri governatori leghisti abbiamo chiesto e ottenuto l'applicazione dei costi standard sapete qual è stato il risultato? Che per la prima volta il Piemonte ci ha guadagnato ha migliorato la quota di accesso al fondo sanitario nazionale questo perché? Perché oltre ad avere una sanità con i conti in ordine abbiamo una sanità migliore dal punto di vista della qualità dei servizi e questo è un orgoglio che noi possiamo portare avanti ed è più forte del fango di qualunque tipo di ignobile attacco che ci hanno fatto questa è la forza del lavoro è la forza del lavoro e aggiungo oggi abbiamo a Roma un presidente del Consiglio che si riempie la bocca, dice farò di qui, farò questo, farò quello bene, noi abbiamo nel silenzio perché evidentemente lavorando in questo modo disturbavamo qualcuno che aveva altri disegni abbiamo visto quali sono gli altri disegni quelli di mettere qualcuno che arriva direttamente dal mondo delle banche senza neanche fare la partita dicendo che il voto dei piemontesi che c'è stato quattro anni fa non andava bene perché se voti in un modo non va bene evidentemente per qualcuno ecco noi abbiamo varato delle politiche che hanno creato migliaia di posti di lavoro in controtendenza con uno stato centrale che invece non ha fatto assolutamente nulla se non danneggiare le nostre imprese se non aumentare la pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro noi abbiamo varato al governo della regione insieme alla nostra squadra misure innovative tant'è che il Piemonte è risultata la regione più competitiva dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione grazie alle politiche varate dal governo regionale della Lega e anche questo è un'altra pietra un altro fatto importante insieme a tanti e tanti altri che rimane allora dico che la nostra militanza è in battaglia per le elezioni regionali e con la forza di quello che abbiamo fatto e la forza straordinaria della nostra gente vedrete che torneremo più forti di prima nel tempo più forti di prima e oggi è un giorno anche di campagna elettorale per le elezioni europee guardate non c'è in campo un partito contro un altro ci sono in campo due visioni ci sono tutti quelli destra, sinistra, centro che difendono l'Europa così com'è che è l'Europa dell'euro che ha massacrato le nostre aziende che è l'Europa dei grandi interessi gli interessi dei tedeschi soprattutto e c'è la Lega che invece ha la visione di un'Europa diversa basta euro vuol dire basta questa Europa che ha massacrato il nostro sistema produttivo io ho girato in quattro anni in tante aziende e posso dirvi che facendo il paragone è una cosa semplicissima non è che ci vogliono tante disquisizioni se tu chiedi ai nostri imprenditori come andava prima dell'euro dal punto di vista della competitività delle aziende soprattutto in rapporto ai tedeschi ma non perché noi ce l'abbiamo con i tedeschi ma perché il sistema tedesco è l'altro grande sistema produttivo manifatturiero come va il mercato? ebbè prima eravamo competitivi oggi noi siamo sistematicamente massacrati e allora ci vogliamo svegliare e la Lega è l'unica che propone un'Europa diversa grazie a quello che ha sempre detto Umberto Bossi e alla straordinaria azione di Matteo Salvini al suo grande impegno per portare avanti appunto questa idea di Europa diversa e allora in battaglia perché dal risultato di queste elezioni arriveranno sorprese positive per la nostra gente e per tutti voi e grazie al vostro lavoro il vostro lavoro, il vostro impegno non andrà perduto viva Pontida, Piemont liber! facciamo sentire tutto l'affetto del prato di Pontida a Roberto Cota lo spirito indipendentista sopra!